L'ultima volta che ci siamo trovati nello studio dell'Avvocato Nucci qui ad Arezzo, l'Avvocato Nucci era candidato alle elezioni amministrative di Castiglione Fiorentino. L'Avvocato Nucci disse delle cose anche abbastanza pesanti sull'allora sindaco di Castiglione Fiorentino, dicendo che insomma aveva fatto un buco enorme, una voragine, e io gli dissi che mi era simpatico il sindaco di Castiglione e lui fece anche una battuta e disse anche a me, però il buco l'ha fatto. Insomma adesso questo buco ha portato a una situazione molto grave, no? Sì, sì, si possono fare mille battute, nulla di personale, io ce l'avevo con l'amministrazione, con l'amministrazione comunale di Castiglione Fiorentino che per 18 anni e in 18 anni ha dissestato questo paese. Le battute si possono fare in quantità industriale, rimane il fatto che Castiglione Fiorentino adesso è in fiamme, si trova in una situazione economica disastrosa, il dissesto che verrà dichiarato sabato è una cosa clamorosa, mai successa, sia nel nostro paese, sabato 24 settembre e pagheranno purtroppo di tasca i castiglionesi e questo non va bene. Considera che recentemente il 20 settembre è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana un decreto legislativo fatto quindi dal governo, come sai, che sanziona i comuni che hanno violato il patto di stabilità. Quindi queste sanzioni applicate ai comuni saranno anche queste gravanti sulle tasche dei cittadini. Cioè in altre parole... Ma l'anno è l'uscia d'osso, come si dice a Rezzo. Noi siamo di Castiglione, così no... Ma la soluzione qual è, Avvocato? La soluzione è grave, la soluzione è quella, ripeto, che i castiglionesi secondo me dovrebbero attrezzarsi per impedire di far gravare sulle loro tasche. Come si può fare? L'unico sistema ad avviso di chi parla è quello della classation, è vero che ancora va regolamentata, però in Italia è stato introdotto questo ricorso collettivo e per la prima volta si profila la possibilità per il singolo cittadino che si associa in comitati o associazioni di adire il giudice con un ricorso collettivo affinché il giudice stabilisca che deve pagare il governante. Sarebbe la prima volta in Italia, ma in realtà il nesso di causalità tra il fatto illecito che loro hanno combinato, statuito dalla relazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e l'aumento delle tasse ai cittadini ha un legame molto stretto, quindi i cittadini possono fare questo. E stiamo con alcuni avvocati di Arezzo allestendo, stiamo cercando di allestire un ricorso collettivo. Altrimenti c'è un commissario che il governo manda e che tratta un fallimento, per il tempo tanto per intendere. Bravo, la procedura del dissesto del Comune è una procedura molto simile, analoga a quella del fallimento, ovvero e proprio di una ditta. Noi però politicamente andiamo oltre, noi diciamo che l'amministrazione Cesarini non può rimanere a governare sotto tutela, quindi con i tre commissari liquidatori che prevede il dissesto a Cassian Frentino, deve andare Cesarini, deve prendere le sue quattro carabattole, metterle nella valigia, chiudere la valigia e andarsene. È inutile che tu rimanga stupito. No, voglio dire, perché io non lo conosco, quindi a me l'altro mi era simpatico, questo lo conosco e potete anche trattare male. Ma voglio dire, e quindi saranno dei commissari senza il sindaco? Esatto, secondo me sabato dovrebbe accadere questo. Il Cesarini o si dimette o non viene votato il dissesto e quindi il prefetto scioglie il consiglio comunale, la giunta, il sindaco, noi consiglieri andiamo a casa, perché è l'ora di finirla, si va a casa. Viene nominato il commissario dal prefetto, il quale, secondo me, dovrà... Media, sì. No, non media niente, dovrà lui proporre la dichiarazione di dissesto, quindi il commissario prefettizio, non il Cesarini, dovrà determinare... Quindi non un politico ma uno nominato dal braccio dello Stato. Ma ti immagini un politico che come Cesarini ha, insieme a Brandi, rovinato questo paese che rimane lì a fare cosa? Deve andare a casa. A casa. Perfetto, più chiaro di così, grazie avvocato e buon lavoro. È stato un piacere.